Amici di Sudio 90 Italia, lo abbiamo sentito qualche giorno fa telefonicamente e adesso abbiamo il piacere proprio di vederlo, di toccarlo di presenza Mister Gatto Panceri, sono felicissima di incontrarvi Allora, un conto è sentirsi al telefono, un conto è vedersi Vedersi di persona, è più bello Quindi sono contento di trovarvi qua a Sanremo Come al solito Sanremo è bello ma caotico Dietro c'è tantissima gente Gente che passa, gente che torna, è il bello della diretta E questo è il bello di Sanremo, dai Un qualunque posto fuori e dentro di te, tra l'altro Gatto Panceri Lo stiamo suonando anche in radio, ha riarrangiato questo brano meraviglioso E ti ringraziamo per questo Beh, sai, è stato, sai che sta per uscire questo album Che si chiama Pelle d'Occa e Lividi, che uscirà a fine aprile Però dato che erano 18 canzoni nuove Mi sono detto, ma almeno una delle mie famose del passato rifatta col sound di oggi E ho pensato, ah, un qualunque posto fuori e dentro di te L'ho messa come se fosse un cadeau Però quando è uscita adesso è andata in classifica Quindi ringrazio tutti quelli che l'hanno acquistata su iTunes, Amazon E mi avete fatto un regalo inaspettato Perché ripeto, era un regalo e voi invece l'avete Non è un regalo, è un regalo che hai fatto tu a noi Riproponendola ancora una volta Gatto Pelle d'Occa e Lividi Festival di Sanremo, siamo qui, è doveroso anche dire due battute Sul festival che è cominciato Che già le canzoni sono partite È successo un casino anche con la canzone di Ermalmette e Fabrizio Moro E ci sono lo stato sociale in prima posizione nelle radio Insomma, tanta roba Per un autore come te, com'è questo festival di Sanremo anche a livello di canzoni? Allora, è un festival di Sanremo in cui molte canzoni vanno ascoltate un po' di volte Perché l'abbiamo sentite solo uno barra due volte Alcune addirittura una volta sola Quindi, ok, le canzoni più recchiabili già hanno fatto breccia Perché non si può Era evidente che questo pezzo dell'istituto sociale era un pezzo molto radiofonico Un po' azzeccato, carino, divertente Mi piace molto Annalisa Devo risentire il pezzo di Mario Biondi che mi sembra molto bello Però è uno di quelli che secondo me vanno sentiti un po' più di volte Quindi io prima di dare un giudizio finale dovrei risentire queste canzoni Però mi sembra che ci sia comunque musica di qualità Baglioni è uno dai gusti raffutti Con i presentatori, per esempio, cosa ne pensi? Ma sai, io non sono uno tanto che spende parole ai presentatori Perché io se facessi un festival di Sanremo lo farei con le voci fuori campo Per dare spazio alla musica, è vero Se con la voce canta Però se devo dire una cosa Baglioni come presentatore mi piace quando parla di musica Quando parla di poesia è imbattibile Si presta un po' troppo agli scherzi secondo me Perde un po' di plot La Hutzinger è bravissima perché è questa verve naturale L'attore comunque è in gamba Ma ripeto, io sono quello più sbagliato Per parlare dei presentatori, mi vanno bene un po' tutti a me Parliamo di musica, parliamo anche di animali Perché io qua c'ho un gatto che ha con sé un cane Ovvero Super E vuole farsi vedere Esatto Conosciamo anche Super E l'amore per gli animali Chi ama gli animali ha una grossa sensibilità E lo vediamo e lo ascoltiamo anche nei brani di Gatto Panceli Allora questo cane è con me da 11 anni Quindi io in 11 anni ho prodotto 4 album Li ha vissuti tutti In particolare l'ultimo viene con me anche in tournée È qui con me a Sanremo E quindi adesso mi fa male anche una zampa Però è con me lo stesso Io ho comprato un marsupione per portarlo Quando c'è lui la mia giornata è diversa Perché è la purezza in persona Il calore, la sincerità La mancanza di cattiveria Tutto quello che l'essere umano purtroppo ha La sincerità La sincerità e l'affetto degli animali uniche e sole Che non chiedono nulla in cambio Se non un po' di mangiare Esatto E quindi lo conoscono anche tanti Perché ha un suo profilo Facebook Super Panceli Molto cliccato Va bene Sta diventando molto più famoso di me Ecco No vabbè Ma invece adesso Gatto Panceli Tu avrai sicuramente A parte regalarci Pelle d'oca Il Livi di quest'album Meraviglioso che uscirà prestissimo Qual è un sogno In questo momento di Gatto Panceli? Cosa vorresti fare ancora? Ma guarda È molto semplice Io ho aperto la mia edizione La casa editrice Che si chiama Vivo per lei Guarda caso Trano Dedicandola a questa canzone Che mi ha portato fortuna Che ho scritto per Boccelli e per Giorgia Il mio sogno è quello di trovare Nei prossimi anni Non dei cantanti Ma dei grandi autori Di canzoni Quindi i nuovi Mogol I nuovi Maurizio Fabrizio I nuovi Biagio Antonacci I nuovi Gatto Panceli Quelli che le scrivono Perché l'Italia è tutta sbilanciata A cercare i cantanti Però questi cantanti Dobbiamo dargli anche delle belle canzoni I cantanti senza gli autori E senza le belle canzoni In effetti dove vanno? Esatto E quindi Gatto Panceli sarà Il capo dell'edizione Della Vivo per lei Che gestirà questi nuovi ragazzi Darà dei consigli E li tutelerà E presenterà le loro canzoni Ai grandi cantanti Che hanno bisogno di grandi canzoni Manca una banca canzoni E spero che sia Vivo per lei La Vivo per lei edizione La Rassoluzione E io con un maestro Di questo tipo Sono convinta Che sarà sicuramente Un grande progetto Grazie Gatto Panceli Grazie a te Un bacio a tutti Un saluto a tutti quelli Che ci stanno guardando E ascoltando Ciao